Al Teatro Flaiano proseguono con successo le repliche di conversazione di un uomo comune, scritto e interpretato da Pino Caruso. L'attore palermitano snoda il suo coinvolgente monologo attorno ai temi del nostro vivere quotidiano. Argutamente dialoga con se stesso e con il mondo fino ad arrivare lassù, dove nessuno osa per recriminare i difetti della creazione umana. Lo spettacolo rimarrà al Teatro Flaiano fino al 20 dicembre.